Dopo mesi di protesta il procuratore di Teheran scioglie la polizia morale iraniana, l'unità travolta dalle accuse per la morte di Masa Amini. Tutto pronto per Brasile, Corea del Sud e gli asiatici sperano di riuscire in un altro colpaccio eliminando gli ottavi verde oro. Il procuratore generale iraniano ha annunciato l'abolizione del corpo della polizia morale che quasi tre mesi fa arrestò Masa Amini, la giovane kurda, morta dopo essere stata fermata dagli agenti per non aver indossato il velo secondo quanto prescrive la legge nazionale. Dopo mesi di proteste che stanno mettendo a ferro e fuoco il paese, il procuratore ha giustificato la decisione affermando che in nessun modo la polizia morale può sostituirsi alla magistratura. Per molti si tratta di un vero e proprio punto di svolta. Il presidente dell'Iran, Ibrahim Raisi, ha detto che le basi repubblicane e islamiche dell'Iran sono radicate nella Costituzione ma a volte la Costituzione può essere applicata in modo flessibile. La polizia morale fu creata sotto il presidente Ahmadinejad nel 2006 per diffondere la cultura della decenza e dell'ijab. Nelle strade gli iraniani chiedono una modifica alla legge islamica che impone a tutte le donne di coprire col velo, capelli, collo e spalle. Tre settimane dopo essere stata riconquistata dalle forze ucraine, la città di Kherson continua a subire bombardamenti quotidiani. L'esercito russo è ancora sulla trasponda del fiume Dnipro e prende di mira sia le infrastrutture vitali della città che gli edifici residenziali. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha iniziato una visita ufficiale di quattro giorni nel paese dilagnato dalla guerra. Sono in Ucraina in questo momento per solidarietà con le vittime di questa orribile guerra causata dall'invasione della Federazione Russa il 24 febbraio. Sono qui per esprimere solidarietà, ha detto. Nel complesso i combattimenti in Ucraina hanno subito un rallentamento nelle ultime settimane e probabilmente continuerà ad essere così per tutto l'inverno. Almeno è quello che sostengono le agenzie di intelligence americane che prevedono inoltre che entrambe le parti cercheranno di rifornirsi e ricostituirsi per una controffensiva in primavera. Nell'Accademia di Fanteria di Toledo i militari dell'esercito spagnolo stanno addestrando i civili ucraini che si sono volontariamente arruolati per combattere contro la Russia. È una delle sessioni di addestramento finanziate dalla missione di assistenza militare e istituita dall'Unione Europea. Il modulo di base è rivolto alle persone che arrivano senza formazione. Sono i primi a cui l'addestramento è rivolto. Sanno cosa aspettarsi dal futuro e progrediscono rapidamente, ha dichiarato ai giornalisti il generale del campo. Oltre alla formazione di base, vengono istruiti sul disinnesco degli esplosivi, l'assistenza sanitaria e la difesa personale. L'unico obiettivo che abbiamo è imparare qui e tornare il prima possibile in Ucraina. Non abbiamo attaccato nessuno, vogliamo solo difendere ciò che è nostro, dice uno degli allievi. Nel campo saranno addestrati 400 soldati ogni due mesi. Il programma multimiliardario degli Stati Uniti per la riduzione dell'inflazione e la promozione di tecnologie rispettose del clima, firmato quest'estate dal presidente Biden, spinge l'Unione Europea a rivedere le proprie norme sugli aiuti di Stato. Intervenendo al Collegio d'Europa di Bruges, in Belgio, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha parlato della necessità di rivedere le regole dell'Unione per evitare che gli investitori europei scappino negli Stati Uniti, attratti dagli ingenti sussidi per il settore della green economy. Occorre riequilibrare il campo di gioco alterato e distorto dal piano statunitense e mitigare gli svantaggi competitivi, ha detto la presidente von der Leyen. Il programma è il più impegnativo di tutta la storia statunitense e prevede investimenti per quasi 370 miliardi di dollari in dieci anni per ridurre l'inflazione, favorire la trasformazione del sistema industriale e promuovere le cosiddette energie pulite. In vigore da oggi, ma già con forti perplessità circa la loro reale efficacia, l'embargo all'importazione di greggio russo via mare e il prescappa 60 dollari al barile, tetto comunque al momento superiore al valore con cui viene commercializzato il petrolio di Mosca. Alle misure stabilite dal Consiglio europeo nel quadro del sesto pacchetto di sanzioni dall'invasione dell'Ucraina, Mosca ha replicato sostenendo che continuerà a vendere solo ai paesi che rispetteranno le condizioni di mercato. L'OPEC, di cui è membro, ha ieri optato per una posizione attendista mantenendo invariati i livelli di produzione stabiliti ad ottobre. Con la UE che dall'inizio del conflitto ha ridotto le importazioni dalla Russia al di sotto del 30% e quest'ultima che ha incrementato le vendite sui mercati di Cina, India e Turchia, l'impatto delle misure adottate resta però limitato. Il price cap si farà in particolare sentire solo nel caso in cui i prezzi del petrolio dovessero improvvisamente salire. I paesi esportatori di petrolio dell'OPEC e i suoi alleati, tra cui c'è la Russia, hanno deciso di mantenere invariata l'attuale politica di riduzione della produzione di petrolio. L'annuncio arriva poche ore prima dell'entrata in vigore delle nuove sanzioni occidentali sulle esportazioni di greggio russo. L'offerta continuerà a essere limitata a 2 milioni di barili al giorno e durerà fino alla fine del 2023. Il gruppo, hanno dichiarato i grandi paesi esportatori, è pronto a riunirsi in qualsiasi momento per affrontare gli sviluppi del mercato qualora necessario. I prezzi pazzi delle bollette non temono i libri di scuola. Questo è un liceo di Brue, una cittadina della Bretagna, dove studenti e personale scolastico hanno accettato l'impresa di risparmiare fino all'ultimo kilowatt. Per aiutare le scuole, le autorità regionali hanno messo a disposizione degli agenti che assistono il personale addetto alla manutenzione. Tra le priorità individuate, il controllo della temperatura e degli impianti di riscaldamento. Ci sono 19 gradi nelle stanze dove le persone lavorano, e 16 nelle aree comune e nei bagni, dove le persone si trattengono per meno tempo, dice Guillaume, che è stato mandato dalla regione. Lo spegnimento di alcuni orologi porterà a un risparmio di 800 euro all'anno. Tra gli studenti sono stati nominati anche degli eco-delegati, che hanno il compito di spiegare i benefici di questi cambiamenti ai loro compagni di scuola. Alcuni si lamentano perché fa freddo, ma la maggior parte delle persone lo accetta e ne comprende la convenienza, dice Louise. Nel 2021 i licei pubblici della Bretagna hanno pagato oltre 14 milioni di euro per i costi energetici. In tutta la regione si fa gara per evitare i 28 milioni di euro in più che ci si aspetta in bolletta rispetto all'anno scorso. Strade che si trasformano in veri e propri fiumi, trombe d'aria, grandine. Il maltempo ha flagellato nelle scorse ore il centro-sud Italia, in particolare Sicilia e Calabria, dove sono stati registrati danni causati dalle piogge abbondanti. Il capo della protezione civile Fabrizio Curcio ha convocato una riunione dell'unità di crisi, precisando che sull'isola si sono verificate criticità soprattutto alla viabilità per frane e smottamenti, mentre in Calabria e Puglia si registrano allagamenti e trombe d'aria. Chigliana Mbappé, sempre più trascinatore della Francia, che passa i quarti di finale dei mondiali in Catara grazie al successo sulla Polonia. 3-1 lo scorso sul tabellone al fischio finale ad aprire le marcature. Poco prima dell'intervallo è il rosso-nero Olivier Giroud, su assist di Mbappé. Il fuoriclasse del Peuge raddoppia con un gran gol al 74esimo, prima di chiudere la pratica nel recupero con un destro all'incrocio dei pali. Inutile la rete su rigore di Robert Lewandowski, i campioni in carica staccano il biglietto per il prossimo turno, dove incontreranno l'Inghilterra. La nazionale di Gareth Southgate ha vita facile contro il Senegal. Gli inglesi si portano avanti al 38esimo con Henderson. Dieci minuti dopo, Capitano Henry Kane raddoppia nella ripresa Tocca Saka, che mette la firma sul definitivo 3-0. Il quarto di finale tra le due nazionali europee si disputerà il 10 dicembre allo stadio Albaït di Alcor. Proseguono gli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Qatar. Questa sera una delle grandi favorite del torneo, il Brasile, affronta una delle sorprese della prima fase, la Corea del Sud. Dovrebbe esserci Neymar, che si è allenato con il gruppo a 11 giorni dall'infortunio con la Serbia. La compagine asiatica, che nella fase a Gironi è riuscita a battere il Portogallo di Cristiano Ronaldo e pareggiare con l'Uruguay eliminandolo dalla competizione, spera in un altro exploit, ma sa che con la Sele Sao sarà tutto fuorché una passeggiata. Il Giappone è fin qui uno dei punti di riferimento del torneo, ma spera di poter continuare a festeggiare durante questi mondiali, a partire da questo pomeriggio quando affronterà la Croazia. Ricordiamo che la nazionale asiatica ha chiuso in vetta nel suo girone dopo le incredibili vittorie su Germania e Spagna. Ora affrontano una Croazia imbattuta nelle ultime otto partite, un avversario ostico. La squadra non è troppo diversa da quella che ha raggiunto la finale quattro anni fa. Dalic ha effettuato un solo cambio nell'undici titolare in tre partite. Il Giappone non si è mai qualificato per i quarti di una Coppa del Mondo. Scopriremo oggi se ci riuscirà. Il Giappone non si è mai qualificato per i quarti di una Coppa del Mondo.